Le attese dei cittadini sono disattese, questo per usare un gioco di parole. La situazione, sappiamo qual è, Francesco Donati insieme a un altro gruppo di volonterosi ritiene che per sanare questa situazione bisogna ripartire dal proprio territorio, partire dal basso, dalle basi, da quella che è la terra in cui si vive. E' per questo che è nato e viene presentato oggi ufficialmente qui nella Saletta Rossa dell'Hotel Granduca il raggruppamento politico autonomo, RPA. Tanta voglia di fare e anche tanta stanchezza di aspettare. No, direi che c'è una necessità, la necessità di fare chiarezza su tante cose, molte delle quali non vengono mai spiegate e siccome io credo che il territorio appartenga non tanto agli amministratori quanto ai cittadini, come le istituzioni, non appartengono agli assessori ma appartengono ai cittadini. Quindi il principio della chiarezza, della necessità di spiegare e di indicare quali sono gli elementi per cui si deve avere l'obbligo di, oppure si deve avere il vantaggio di, eccetera, debba essere spiegato in modo chiaro. Anche perché questo sistema fa sì che il cittadino possa controllare tutti gli atti che una pubblica amministrazione fa. Questo raggruppamento che nasce per volontà di un gruppo di cittadini e non di un singolo, non è un partito, non è un movimento, lo dice la parola stessa, è un raggruppamento. Quindi è aperto anche all'ingresso di cittadini di buona volontà. Non a caso è stato messo il raggruppamento politico autonomo. È autonomo perché non dipende da nessuna centrale politica. Politico perché se si tratta di fatti che coinvolgono dei cittadini, la politica chiaramente si fa politica. Non dobbiamo vergognarci del significato delle parole. Raggruppamento, non movimento, perché non ha una matrice filosofica, definiamola così, ma è un insieme di soggetti che esprimono il loro parere, la loro valutazione e cercano di ritrovare insieme la soluzione a un problema concreto della città. Questo è il senso del raggruppamento. Alla presentazione ci sono naturalmente alcuni degli aderenti al raggruppamento politico autonomo. Perché questa scelta? Certamente perché le amministrazioni oggi vanno come vanno. Si vede le conseguenze in tutta Italia. E grossito specialmente è diventata una piaga sociale. Diciamo un'amministrazione vessatoria e basta, abulica, che non riesce mai a dare delle risposte ai cittadini. Sempre sul sé, ma forse. Guardi, io faccio un esempio soltanto pratico. Sono un ingegnere, quindi un libero professionista. Credo che molti professionisti come me non conoscono e non possono neanche accedere agli atti amministrativi, perché manca totalmente la trasparenza. Siamo tornati indietro di almeno 20-30 anni. Allora Donati, dammo un messaggio ai nostri ascoltatori. Noi daremo l'informazione attraverso un sito che faremo del raggruppamento, perché è necessario farlo. Non faremo la pagina Facebook, ma daremo comunicazioni con altri sistemi informatici e comunicheremo dove, quando, il cittadino vorrà informarsi di argomenti, su argomenti, su contenuti e su problematiche che noi andremo via via a trattare. Sarà un processo anche di formazione all'interno del raggruppamento, non soltanto di valutazione e di controllo degli atti amministrativi o di problematiche di altro tipo, perché è necessario formare delle coscienze politiche. Io definisco così, perché credo e mi sembra, visto che un po' di anni ce l'ho, che rispetto al passato queste sia venute molto meno. Diciamo che oggi c'è molta meno conoscenza dei meccanismi politici, dei meccanismi burocratici e quindi è tutto molto criptico, come abbiamo detto all'inizio, c'è bisogno veramente di trasparenza.